In questo modo va incontro anche a una nuova stagione, qui è un altro esponente molto importante della... I libri della Scuola del Libero traggono origine da quella che era una delle più importanti biblioteche della storia moderna, cioè quella naturalmente del Duca Federico e che nel Palazzo Ducale aveva raccolto intorno a sé un cenacolo di autori, di artisti che si occupavano a vario titolo di arti e di arti applicate. Le arti applicate al libro hanno realizzato alcune delle opere più importanti probabilmente della cultura rinascimentale e che ancora oggi sono dei mirabili esempi e riferimenti per chiunque voglia occuparsi di editoria e di editoria d'arte. Ecco, da quell'antica tradizione nasce nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso con varie traversie e diverse tappe storiche l'istituto per la decorazione e l'illustrazione del libro che diventa poi più semplicemente la scuola del libro dove tutti gli insegnamenti convergevano nella realizzazione del prodotto editoriale secondo antichi metodi, tradizioni con una impronta prettamente artistica. per cui alle funzioni relative alla stampa del testo che veniva realizzato con i canatteri mobili e stampato al torchio piano cilindrico si affiancavano le funzioni relative al decoro e all'illustrazione. Illustrazione che diventa poi nel tempo un linguaggio autonomo le tecniche incisorie che servivano appunto per poter riprodurre serialmente le opere degli illustratori sono diventate in seguito delle tecniche autonome che hanno permesso a artisti di chiara fama e a grandi schiere di allievi di cementarsi con l'opera illustrativa anche svincolata dal testo ma nel rapporto tra il testo e l'immagine che si gioca direi quasi tutta la storia della scuola dai primi esempi e quindi dagli esordi fino ai giorni nostri con stagioni differenti, con alterne fortune si sono avvicendati schiere di allievi che poi sono diventati grandi maestri di maestri che hanno lavorato a fianco degli allievi e che hanno prodotto tutta una serie di opere mirabili che risentono inizialmente in modo molto preciso dell'aria che si poteva respirare nel Palazzo Ducale di Urbino gli insegnamenti di alcuni grandi maestri come Francesco Carnevali, prima alunno e poi insegnante e poi direttore della scuola hanno dato un'impronta direi stilistica riconoscibilissima a tutte le opere illustrative che sono nate in quegli anni ancora oggi la spinta propulsiva di questa tradizione permette alla scuola di realizzare opere editoriali di grande interesse in collaborazione spesso anche con maestri di chiara fama che svolgono la loro attività anche in ambiti più ampi e naturalmente anche in uno scenario direi allargato all'intera Europa Grazie. 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 Grazie.